Davanti a me manca sicuramente qualcosa perché facciamo fatica a realizzare per quanto riesci a costruire, la squadra ha un suo equilibrio in campo e poi paga magari delle ingenuità o singole o di reparto, però sono cose sulle quali cerchi di lavorare per il tempo che ti è dato di farlo, il problema è solo questo. L'altro problema secondo me è che bisogna migliorare a livello caratteriale perché se tu parti battuto perdi matematicamente, invece bisogna che cambiamo un po' la nostra mentalità di rassegnati, che ci giochiamo le partite con il cutello tra i denti e provare a tirar fuori un po' più di orgoglio e di determinazione perché a me quello che mi salta all'occhio è che su cosa ancora non è inciso proprio da questo punto di vista, dal punto di vista di trasferire un po' quello che è il mio animo Spugnandi alla squadra che la vedo sempre timorosa e questo mi inquieta di quanto.